Doppio impegno di campionato per la Sandra Bate Avellino che questa sera alle 20 sfiderà al Pala del Mauro la Berardinello Petrarca Padua nella non giornata del campionato di Serie A. La formazione avellinese è chiamata a riscatto dopo la pesante sconfitta, rimediata nello scorso turno di campionato per 6-2 contro la Colormax Pescara. Un risultato che ha sancito il campio della guida tecnica con il ritorto in panchina di Marcello Batista al posto di Fabian Lopez. Il trainer brasiliano a causa della quarantena non sarà in panchina questa sera e sarà sostituito dal vice Vinicio Comella. Tra le file dei venti spicca l'ex Victor Mello 10 gol nella passata stagione ma soprattutto c'è anche l'esperto Gerader Fornari, 2 gol lo scorso anno con la maglia della Feldieboli contro Gierpini. I due hanno guidato Padova nell'ultimo turno di campionato al successo contro il Meta Catania vinto per 3-2 con il gong finale segnato da Rafinha al 56. La Sandra Bate potrà contare su Fante Selle e Nicolodi che sono rientrati dagli impegni con la Nazionale Azzurra ma soprattutto sull'ultimo arrivato in casa Sandra Bate Jonas Pinto Junior che scalpita per un posto da titolare ma soprattutto con la voglia di dare il suo contributo alla formazione irpina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.